Buongiorno a tutti amici di YouTube, benvenuti sul mio canale. Ragazzi, ragazzi, stasera partita importante, Lazio-Milan. Il Milan deve assolutamente cercare i tre punti, deve assolutamente cercare di reagire dopo quattro partite non belle. Speriamo veramente di cuore di vedere una squadra vogliosa, viva e soprattutto che ci porti a casa tre punti fondamentali perché ne abbiamo veramente bisogno come il pane, come si suol dire. Ragazzi, le formazioni. Il Milan dovrebbe entrare in campo con Tata tra i pali, difesa quattro con Calabria, Calulu, Tomori e Dest. Queste sono le scelte per quanto riguarda la parte della difesa. Tonali e Benanser davanti la difesa. Poi mi dà Sanismakers, Diaz e Leao dietro Giroud. Questi dovrebbero essere gli undici da parte della squadra rossonera. Mi auguro veramente stasera di vedere una reazione, di vedere un Milan cazzuto, un Milan che ha voglia di vincere, un Milan che ha voglia di fare risultato. Sarebbe fondamentale per la nostra classifica, soprattutto dopo il passo falso ieri dell'Inter. Dobbiamo consolidare il nostro secondo posto. Ultima indiscrezione di Calcio Mercato. Sembra che Paolo Maldini abbia offerto oltre denaro come contropartita per Zaniolo Messias. Questo lo riporta il Corriere dello Sport, il Corriere della Sera e altre fonti giornalistiche. Guarda, io sono pienamente d'accordo, Messias per me non è da mira. Quindi Zaniolo 10.000 volte più forte di lui. Vedere anche in tanti sondaggi rossoneri, tutti preferiscono Zaniolo a Messias, ma non c'è assolutamente dubbio. Si fa sicuramente un salto di qualità sulla destra. Mi auguro veramente che Jerry Cardinale ci faccia questo regalo. Ho chiesto a lui veramente un aiuto. È l'unico che può veramente aiutare questo gruppo e consolidare questo gruppo. Perché io ritengo che questa stagione non è ancora finita. E molti risultati lo dicono. Non solo nostri, ma anche di altre squadre. Quindi ragazzi, testa, cuore e palle. Crederci sempre. E vediamo di portare a casa sti cazzo di punti. Perché sti tre punti sono fondamentali oggi. Dopo due passi falsi in campionato, con Roma e Lecce, quattro punti buttati. Oggi voglio i coglioni sotto. Oggi voglio vedere una squadra che veramente ha fame. Voglio vedere una squadra che gioca come fosse una finale. Vincolo che non ha fatto in Supercoppa. Lo voglio vedere stasera. Mi raccomando ragazzi. Mi raccomando. Testa, cuore, palle. E veramente. Cerchiamo di vincere questa partita. Perché è fondamentale stasera. Per la nostra classifica. Ciao a tutti ragazzi. Un abbraccio da Gerry. E sempre. Forza. Vecchio cuore. Rosso Nero. Ciao a tutti ragazzi.